Ecco, vedi? Questo è il 580 Elegant, l'ultimo nato, l'ultimo modello che stiamo presentando a terra, adesso devi essere tu, andate a provare a mare, ce lo consentirà sicuramente il tempo, via! Sì, oggi siamo a Sciacca e abbiamo organizzato questo evento proprio per l'inizio della stagione, infatti abbiamo 4 bottelli in acqua e altri 3 sui pontili per farli vedere e farli principalmente provare ai nostri potenziali clienti. Ci stiamo rivolgendo un po' a tutti, potenziali clienti e anche dei semplici curiosi perché alla fine anche loro possono diventare un giorno nostri clienti. Abbiamo dei battelli che partono dalla misura di 5 metri e 20 fino ad arrivare al grande nostro, la nostra ammiraglia e un 7,20 che può essere motorizzato fino a 250 cavalli. Dicevamo che stiamo puntando su un mezzo anche piccolo per la nautica minore, è un settore che molti altri cantieri hanno messo da parte, quasi sul classandolo, quasi considerandolo proprio nautica minore. Invece no, è proprio da là che si comincia, quindi noi puntiamo su questo modello, su questi modelli, 5,20 e 5,80, battelli facilmente carrellabili, facilmente utilizzabili da una famiglia comune. Anche se giorni fa ci siamo sentiti con il campione mondiale off shore della Endurance, Mimmo Giardina, che è venuto oggi e ieri a provarlo e si è un po' divertito portandolo un po' alla sasperazione, però è una barca che regge anche i capricci di Mimmo Giardina, questo si può dire tranquillamente. Eccezionali gommoni, abbiamo provato oggi il 7,20 e il 5,80. Devo dire che sono due tipi di carena che differenziano, una morbida e precisa, quello che è il 7,20, l'altro morbida anch'esso, però diciamo che è il 5,80, uno ci si può divertire a navigare con questo mare un po' scomposto, che ti dà tantissima precisione, però nello stesso tempo ti permette di fare quei giochini che ti fanno andare in essersi quando la guida. Siamo scesi a terra adesso, dopo aver provato questi battelli che, devo dire la verità, mi hanno entusiasmato, sia dal punto di vista di come sono finiti, di come sono allestiti, come in piante elettrico, gavoni, cuscinerie eccetera, ma soprattutto in ambiente marino, a contatto diretto con le onde. È un battello molto onesto, soprattutto il 5,80, il 5,20 nella fascia che può essere un battello da 5,20 e 5,80. È un battello molto ben finito, molto performante, ad un prezzo ancora accessibile, perché facciamo la guerra ai prezzi che stanno arrivando alle stelle. Questo è un prodotto giusto, secondo me è un prezzo giusto, un prezzo onesto, per un battello onesto in tutti i campi, con una buona carena. I progettisti hanno fatto un buon prodotto, hanno lavorato bene, è un gommone che con un 40 cavalli ti può dare una giusta soddisfazione. Noi abbiamo raggiunto i 30 nodi con un 40-60 Yamaha, con una condizione di mare con vento leggermente formato. Questo è un buon battello. Io sono convinto di questo prodotto e credo che a breve faremo quello che abbiamo fatto oggi qui in Sicilia, lo faremo al centro Italia con la prova di tutti i battelli, con le impressioni che ci daranno gli utenti finali, che poi alla fine sono quelli che compreranno i battelli.